Buonasera e benvenuti a un'edizione potrei dire sperimentale del gioco del mondo considerato che la nostra ospite è la seconda volta che viene qui al tavolo del gioco del mondo a lanciare il dado la prima volta era stata se la memoria non mi inganne il 5 maggio del 2013 ma rispetto all'ora tutto sarà un po diverso forse non tanto perché il presentatore era un altro maurizio canetta ma perché qui è proprio il dado a decidere il percorso un dado che noi consegniamo con gran piacere a crista rigozzi buonasera e benvenuta ciao crista buonasera ciao grazie ci diamo del tutto è la prima volta che io posso dire in tutte queste puntate ben tornata al gioco del mondo vedi no a me fa molto piacere sono passati quattro anni sono passati quattro anni inutile che ti presenti ex mi svizzera criminologa un'accademica che poi ha sfondato anche nel mondo dello spettacolo in quattro anni sono successo un po di cose diciamo che che alcuni cambiamenti ci sono stati abbastanza importanti voi due cambiamenti di sicuro quanto pesano questi due cambiamenti pesano quasi 9 kg 70 centimetri sono alissa e zoe la gioia della mia vita la cosa più importante sai chi ti ricordi quale pedina avevi scelto quattro anni fa ma vedendo le pedina adesso l'imperatore perché poi appunto io volevo rivedere la puntata ma alla fine ho detto no non la guardo che così è non non mi lasci guardi perché non volevi guardarla una lei guardata perché non hai tempo la tua agenda è pienissima è vero che la mia gente fina però non ho voluto guardarla oggi stesso perché così non mi lascia influenzare insomma da quello che ho detto quattro anni fa che poi tutto è diverso a dipendenza delle caselle io avevo scelto l'imperatore io quest'anno sceglierei l'amore l'amore che ha segnato tanto la mia vita che continua a segnare l'hai detto con due occhi dolcissimi che sono proprio quelli della mamma lo metto qui è sì esatto allora che facciamo rispolveriamo il dado e dai e vediamo allora sono emozionata come quattro anni fa no ma figurati dai lo dici per gentilezza ma facciamo un 5 5 andando in quella direzione due tre quattro cinque e vedi dove finiamo ti ricordi di voltare la casella siamo sulla vedi non mi ricordo la casella la casella proibita e la casella proibita ci porta dritti dritti nel cuore scuro dell'umanità perché è una persona dotata di solarità di luce ha deciso di studiare criminologia che cosa ti attrae del male e delle crimine ma allora io quando ho deciso di studiare criminologia e diritto penale come seconda facoltà secondaria berna era perché io sono sempre stata interessata ai crimini e romanzi criminali guardavo un caso per due l'ispettore derrick alla televisione con mio nonno e quindi cercavo già da piccola di risolvere questi casi di capire insomma la mente criminale no chi commetteva il tal delitto non sempre maggiordomo esatto poi crescendo comunque sono uscite tutte queste serie televisive di cui io sono una grandissima fan come criminal mind di questi profiling no che cercano di capire la mente criminale allora mi son detta questo mi interessa mi piace la comunicazione questo è un po il mio forte e quindi ho combinato le due facoltà della comunicazione e media con criminologia per poi in un futuro diventare portavoce della polizia criminale in svizzera insomma questa era un po l'idea di base un po l'idea poi livello professionale le cose sono date in un'altra maniera per fortuna viene da dire per fortuna sì allora io non non cambierai nulla non cambierai una virgola del del mio percorso fino ad oggi adoro quello che ho fatto adoro quello che faccio sono state decisioni importanti sono state decisioni magari anche non sempre semplici è uno stile di vita un po magari diverso no diciamo dallo stile di vita di tanti miei colleghi però non cambierà veramente nulla e dove mi trovo oggi è il mio posto però dobbiamo cambiare la pd la la casella lo facciamo con il dado crista abbiamo un cattolo criminologia siamo sul lavoro lavoro e voilà è il lavoro cosa sei una ambasciatrice del ticino oltre gottardo il il lavoro adesso per stare alle novità perché non vogliamo fare l'intervista come quattro anni fa le cose sono evolute l'ultima volta che ti abbiamo visto impegnata sul lavoro notizie sono emersi anche sui giornali con qualche tono polemico è stato ad arena che cosa è successo ci vuoi raccontare la tua esperienza come co conduttrice a questo popolarissimo programma della srf un nuovo programma tra l'altro che si chiama arena reporter che va in diretta live a differenza dell'arena che va in onda il venerdì sera noi andiamo in onda la domenica sera in diretta una volta al mese circa e parliamo di temi di attualità che non hanno a che fare solo con la politica ma con la società la cultura insomma dei temi che riuniscono un pubblico vastissimo che comunque interessano veramente l'opinione pubblica con soprattutto l'intervento del pubblico da casa e del pubblico in studio questa è una novità non solo i politici vanno ad esprimersi su questo tema ma il mio ruolo è quello di rappresentare il pubblico di dar voce al pubblico di portare la voce del pubblico in trasmissione sia seguendo ovviamente i commenti sui social network quello che è twitter sia prendendo le telefonate in in diretta ed intervistando anche il pubblico in studio ti chiamano tra l'altro un dialetti belli chiusi ogni tanto appunto non si sente bene no la telefonata comunque studio in diretta e allora mi devo concentrare c'è pressione in quei momenti esattamente qualcuno si perché poi è tutto live tutto in diretta quindi può succedere una panna oppure un'altra ma ma finora è andato tutto bene e niente la politica la polemica è stata una polemica iniziale sì perché insomma dai cristiano rigozzi comincia a presentare con jonas pro e l'arena reporter c'è stato qualche giornalista un po gelosa che ha voluto che ci fa una testimonia di alcuni brand commerciali in una trasmissione di servizio pubblico a farla giornalista questo è un po il tenuto che poi il mio ruolo non è quello di giornalista ma di presentatrice quello che poi è il mio pane quotidiano ti feriscono comunque le critiche le polemiche no queste questo tipo di polemiche no soprattutto quando le critiche sono anonime allora io sto al gioco molto volentieri e rispondo alla persona che ho di fronte anche alle critiche ma quando vengo criticata da persone che non mettono neanche il nome che sono fonte anonima non perdo neanche tempo a rispondere io ho detto guarda risponderò il giorno in cui questa persona uscirà dirà sono io allora facciamo un confronto parliamone eppure di questi tempi la comunicazione è spesso anonima sulla rete ci sono gli haters li chiamano gli odiatori della rete questo è un anonimato che non va bene ma sicuramente oggigiorno con con i social network che 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 sono una parte molto positiva che io anche utilizzo tutti i giorni bisogna fare attenzione c'è il lato positivo e quello negativo ovviamente sia in vista si può scrivere qualcosa avere il feedback positivo o negativo subito avere un commento avere una reazione oggi il mondo gira talmente veloce che vogliamo subito una reazione dall'altra parte ci si nasconde dietro a questi profili criticando la gente ma poi avevo visto un servizio in in germania la rt l'avevano fatto vedere di un documentario che sono proprio andati a cercare sotto i nickname queste persone che sono degli haters andare a bussare alla loro porta e che parlano magari male di presentatori famosi in germania bussando la porta dice no sei tu che hai parlato male di lui ti vedi dei nonnini gentilissimi ma io sono io sono un fan quindi questi non hanno nulla da fare perdono tempo e si mettono a scrivere cose che magari neanche realmente pensano insomma bisognerebbe conoscere un po poi la persona che sta dietro a nell'anonimato ci si fa più coraggio e certo allora il dado che crista con l'amore vogliamo chissà se arriviamo sul nido d'amore ma io ero sicuro che ci sono due coricini ovviamente sono quelli di alissa e zoe che sono nate cioè gemelle sono nate il 31 dicembre 2016 ma intanto della tua vita privata per forza lo che si è rilassato ed è la cosa più bella più importante una cosa indescrivibile io mi ricordo mia mamma le mie amiche dicevano sempre vedrai quando sarai mamma poi capirai in effetti è così quello che senti è una cosa indescrivibile quella giornata allora diciamo che io lavorato fino al 22 dicembre poi avevo un mesetto di libero perché comunque alisa zoa zoa non nasce a fine gennaio quella giornata mi sono preparata come tutte le altre giornate ero a casa tranquilla mi sono rilassata insomma sul divano dopo i pranzi natalizi e post natalizi preparandomi alla cena di san silvestro avevamo riservato con degli amici al ristorante e quindi diciamo che verso le 18 e 30 io ero già pronta truccatissima pronta per uscire a festeggiare san silvestro e lì i piani sono saltati sì però avevi il trucco sei arrivata all'ospedale truccata infatti questo è stato anche un motivo di insomma di commento è un motivo di articoli di giornale a gogo perché appunto io stavo uscendo la cena di san silvestro ovviamente non si esce in pigiama san silvestro io ero pronta e vestita e ho perso le acque e niente i piani sono saltati siamo andati alla clinica invece che al ristorante ovviamente arrivata lì e ho partorito e non ho avuto il tempo di struccarmi c'è tanto amore nei tuoi occhi quando pensi alle tue bambine ma vorrei chiedere se alla showgirl in fondo il ruolo di mamma in prospettiva potrà in un certo senso un po non dico rovinare una carriera ma indirizzarla verso altri percorsi il ruolo di mamma secondo me mi si addice benissimo comunque io ho sempre adorato i bambini ho sempre voluto averne infatti due alla volta pensate no il fatto è che non rovina secondo me il fatto di diventare mamma è un arricchimento per una donna è veramente la cosa più naturale che c'è l'espressione di no ma io non ho mai pensato neanche quando ero in gravidanza di prendere qualche chilo oddio la pancia quello no io comunque lavoro con la mia testa io presento e non 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 a che fare poi appunto mamma è una cosa incredibile non non cambierà mai la mia vita ciò non toglie che io ho continuato a fare il mio lavoro e penso che noi donne siamo talmente forti riusciamo ad organizzarsi che se vogliamo raggiungere qualcosa poi poi ci riusciamo in quel fatto di multitasking no allora ecco non toglie che la showgirl possa diventare madre ed essere una buona madre secondo me se non riusciamo a fare una cosa per volte quindi adesso ma lo fate bene io a casa un papà che è fantastico è un super papà e ovviamente le cose si fanno in due dall'inizio e lui è presentissimo e ovviamente grazie a lui io riesco anche a fare il mio lavoro e poi lui innamorato delle donne innamorato delle sue figlie è in un are ma adesso no assolutamente che è che are ma scusami mi vien da dire allora facciamo oltre l'uno dai sì ma va bene ma va bene così siamo sulla piccola città la città abbiamo già accennato il fatto che tu sei l'ambasciatrice grazie alla tua testa la tua personalità la tua bellezza il tuo sorriso la tua solarità sei una delle poche in fondo ambasciatrici del ticino oltre gottardo io vedo in quella casella un nuovo che sta un po stretto a monte carasso però tu non rinunci nonostante il fatto che è una carriera sovracantonale nazionale io ho proprio bisogno di monte carasso di questa piccola città per poter veramente ricaricare le energie ricaricarmi no per per rilassarmi io vivo una vita a 200 all'ora no viaggiando spesso per lavoro all'estero lavorando a zurigo alla televisione essendo presente in tutta la svizzera e quindi e vedendo tutti i giorni tantissime persone è un arricchimento personale però io proprio bisogno a un certo punto di ritirarmi no di avere la mia tranquillità la mia serenità di leggere un libro di di poter fare una passeggiata in una piccola città e non essere riconosciuta fotografata non dover insomma essere quella che tutti conoscono ma essere cristano e allora il fatto di vivere a monte carasso è perfetto per me perché li conoscono quando qualcuno si tranquillo due parole così da forti quartieri poi mi piace la piccola città col verde con poco traffico a parte che adesso c'è il traffico anche a giurigo un appartamento qualcosa ma certo certo quello sicuramente avevo adesso ovviamente due bambine così e io non non me ne vado per una settimana a zurigo senza le mie figlie allora stiamo vedendo di arrangiarci, perché anche sempre in hotel sono arrivate da pochi mesi, bisogna un po' organizzarsi esatto, tutta questione di organizzazione però adesso mi fai più di un uomo anche io vorrei 5, va bene? va benissimo allora, 1, 2, 3 4, 5 siamo sulla libreria ma ti ricordi che 4 anni fa a Maurizio Canetta avevi annunciato gli avevi dato uno scoop la volontà di scrivere un libro a distanza di 4 anni comunque questo libro è nato è stato pubblicato titolo selfissimo che cos'è questo libro? mi ricordo, la domanda era il sogno del cassetto credo, era di scrivere un libro non un libro autobiografico perché comunque dai, ho 34 anni non mi reputo ancora così vecchia da scrivere una biografia sulla mia vita seppur avendo vissuto tantissime esperienze compresse negli ultimi 11 anni penso che una persona normale non possa vivere questa esperienza in tutta la vita l'ho scritto l'ho pubblicato l'anno scorso il 9 settembre del 2016 perché era l'anniversario dei 10 anni di Miss Vizzera e ho voluto chiamarlo selfissimo perché dà tantissimo di me ma tutto quello che la gente ancora non sa di me il titolo è tutto quello che tu non sai di me io ho pubblicato un sacco di foto che avevo nel telefonino foto inedite foto anche di incidenti di pan aneddoti divertenti incontri cadute ho scritto delle storie successe nel backstage insomma tutto quello che la gente non ha mai visto ho voluto un po' ringraziare il mio pubblico che mi segue da 11 anni e che che mi ha sempre sostenuta e ho voluto fare anche un po' un regalo a me stessa per celebrare questi questi dieci anni la foto con Donald Trump fa parte di questo progetto sì ma quello fa parte della 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 con il presidente degli Stati Uniti dicono tutti no il fatto è che lui era allora nel 2007 io ho partecipato a Miss Universo sono stata un mese in Messico esatto e lui allora era il capo dell'organizzazione di Miss Universo aveva a che fare non con la politica ma con le belle donne no e niente praticamente ovviamente lui essendo in giuria così ci siamo conosciuti abbiamo fatto la foto ma questa foto risale appunto a dieci anni fa poi l'anno scorso quando usciva il mio libro e lui era in ovviamente in lista per diventare presidente degli Stati Uniti America mi ha detto beh perché non pubblicare questa foto che è attualissima spiegando ovviamente non che io voti o non voti per lui ma c'è la storia raccontata successa in Messico ma è il parrucchino Donald Trump o no? non lo so non gli ho mai carezzato i capelli non gli ho mai carezzato certo che questo però ci pone anche una questione tu hai detto ho pubblicato delle fotografie anche in situazioni non studiate con le luci con i riflettori ti prendi questi rischi ti prendi questa volontà di farti vedere anche in situazioni non costruite fa parte del tuo carattere ma io credo il mio punto forte è quello di essermi sempre mostrata per quella che sono quindi così spontanea naturale senza trucco con i miei difetti i miei pregi con anche gli errori che si fanno e questo è stato credo il punto forte di una carriera che dura da dieci anni e credo che alla gente sia arrivato il fatto che io sia autentica sia una tra tutti una di tutti e questo mi ha aiutato quindi io non ho mai creato un'immagine non ho mai avuto un ruolo in questo mondo dello show business io sono sempre stata crista e questo mi ha mi ha reso anche facile il cammino tra virgolette no perché comunque sono sempre stata sincera assolutamente sì come lo sei adesso come lo sei stata quattro anni fa allora vedi però l'amore e le bambine la libreria il libro insomma sembra quasi adesso facciamo tre e poi ti spiego perché ma infatti la casella bianca questa è nuova non me la ricordo no invece eri proprio finita sulla casella bianca allora prima di procedere vogliamo vederla questa casella bianca non me la ricordo perché proprio avevamo finiti sulla casella bianca eh sì è una casella bianca è una casella che giro io dall'altra parte semplicemente azzurra per un motivo cromatico rispetto agli altri colori è una casella che scrivi tu come ti senti come stai adesso mi sento bene ho qualche ansia ma positiva nel senso che mi accorgo di aver fatto un percorso questa sera che risplende rispecchia un po' il percorso della mia vita e questa cosa mi affascina da una parte ma mi spaventa dall'altra ti spaventa perché perché pensi che che c'è qualche arte magica in questo tabellone no 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 non c'è nessun'arte magica credo che che alla fine il destino sia già scritto come deve essere no e quindi sta andando proprio come andata e come andrà e va bene così e va bene così e va bene così e va bene così anche oggi ma in effetti appunto l'ho detto mi sembra veramente di rivivere quello che è la mia vita gli ultimi anni della mia carriera il fatto di essere diventata mamma di essere diventata autrice insomma bello perché è vero il gioco del mondo è vero è vero e come intanto facendo il 5 che hai lanciato prima andiamo arriviamo sulla chiesa tu più volte hai detto abbiamo bisogno di credere se non sbaglio l'avevi detto anche con Maurizio perché abbiamo bisogno di credere e che cosa ma perché secondo me abbiamo bisogno di credere in che cosa è uguale secondo me ognuno deve credere in qualcosa e deve essere la cosa più vicina alla persona credere in qualcosa aiuta ad andare avanti aiuta a essere motivati ma non solo credere nella religione credere di realizzare un sogno credere di arrivare laddove io ho uno scopo credere di riuscire in qualcosa cioè il fatto di credere vuol dire avere la speranza avere la forza avere la motivazione per poi raggiungere quello in cui crediamo quindi il credere per me è importante sì ma posso farti una domanda quando tu hai preso in considerazione l'ipotesi di credere in una carriera basata sulla bellezza cioè tu studentessa a un certo punto dici mi iscrivo a Miss Svizzera come è nata l'idea? allora lì il fatto era che io ero all'università mi mancavano pochi esami e quindi avevo voglia di fare una pausa ho visto la pubblicità della televisione io allora avevo 23 anni e si poteva partecipare tra i 17 e i 23 quindi ero al limite anni prima le mie amiche mi dicevano ma dai partecipa perché non ci provi e lì proprio per me non avevo voglia poi ho deciso di partecipare da solo ho detto perché no voglio vivere questa esperienza ci provo è anche l'ultima occasione perché poi non potrò più partecipare mi sono iscritta e non ho mai creduto di vincere ho creduto di partecipare a qualcosa che mi potesse dare un'esperienza personale un arricchimento comunque e così è stato perché ho conosciuto tantissime persone interessanti le altre ragazze abbiamo viaggiato molto insomma ho conosciuto questo mondo della televisione dei media ed è stato ci sono arrivate distinto ci sono arrivate distinto diciamo che tutto quello che ho raggiunto oggi è sicuramente un lavoro che io faccio da anni il fatto di di prepararsi di reinventarsi di studiare un po' di fortuna sicuramente c'è stata ma è il fatto di credere credere di poter arrivare a quello che si vuole arrivare ma la più bella del reame chi era? Cristo Rigozzi o Xenia Ciumiceva? perché lì il paese si era un po' spaccato ma diciamo che il paese ha deciso Cristo Rigozzi almeno però io ho sempre detto mi ricordo allora che poi appunto sono usciti i giornali Cristo Rigozzi è la più bella della Svizzera e venivano i giornalisti ad intervistarmi e mi dicevano tu sei la più bella della Svizzera e io dicevo no come no e mi dicevano ma come no sì tu hai vinto il concorso e io ho vinto tra queste 16 ragazze che hanno partecipato però in Svizzera ce ne sono migliaia di ragazze che sono ancora più belle che non hanno partecipato e mi dicevano no no tu sei la più bella hai partecipato questo è il concorso sei tu la più bella però tu hai battuto un record letto sui giornali sul bleak che ti sta molto addosso che no ma il bleak però mi adora sì appunto ti comunque rendono note la tua vita privata e mi sembra io ho un buon rapporto con i giornali in tutta la Svizzera devo dire ma anche con la televisione sì no ma io ho un buon rapporto con tutti mi hanno sempre sostenuta non posso lamentarmi veramente vabbè mi sembrava di aver letto correggimi se sbaglio spero di non essere indelicato facendo una cifra che tu hai rotto hai battuto il record di quello che ha guadagnato una miss nell'anno della sua incoronazione avresti guadagnato secondo me 600.000 franchi solo come testimonia al commerciale cioè la Svizzera si accorre di ma perché è giusto più o meno insomma perché Cristo Rigozzi e non altre la gente ti ama ma io ho sempre fatto il mio lavoro con dedizione con amore con passione cioè io in tutto quello che faccio lo faccio veramente do il mille per mille non ti senti mai strumentalizzata al profilo dell'immagine no assolutamente no perché sono io a decidere quello che faccio cioè io sono io a decidere qualsiasi cosa io faccio con il mio management e ovviamente sono io che prendo le decisioni quindi io decido di essere il volto di una campagna pubblicitaria piuttosto di un'altra di dire no a quel cliente di condurre questa trasmissione di non accettare un'altra proposta sono io che decido e quindi non vengo strumentalizzata ma sono io a decidere la mia vita perfetto ok dai l'amore dotato di bazooka eh ah ma io vedo che tra l'altro mentre hai lanciato il dado da tennista direi o da pungista che hai un tatuaggio proprio ho letto bene love questo è un tatuaggio che ho fatto a New York facciamolo vedere scusa allora lo faccio vedere così col pugno alzato sembri una comunista love i tatuaggi no è che io appunto ho alcuni tatuaggi tutti piccolini che significano qualcosa love è un tatuaggio che ho fatto a New York nel 2011 un viaggio che ho fatto con mio marito allora fidanzato e con moroso sì moroso no eravamo sposati nel 2011 perché stiamo insieme da una vita da vent'anni eravamo sposati con degli amici e il tema era l'amore insomma e quindi mi sono tatuata love invece di là scusa perché vedo altri tatuaggi che spuntano dalla ma qui è everything happens for a reason che tutto succede per una ragione questo è stato un po' è un po' il moto che accompagna la mia vita quello che non solo la parte professionale ma anche privata Alissa e Zoe ovviamente non potevano mancare io ne ho letti tre in totale quanti ce ne sono? in totale sono dodici piccolini piccolini tutte cose sì che hanno un significato allora avevamo fatto cinque giusto? uno due tre quattro cinque la cattiva strada ahiaiai speriamo di non prenderla ma no è dura vincere c'è ancora l'idea della cioè noi perdoniamo la bellezza e l'intelligenza in una donna essere belli intelligenti belle intelligenti secondo me non bisogna neanche più parlarne ogni giorno per passare il tempo naturalmente ma credo che le donne oggi non si devono più giustificare per quello che sanno fare si parla di quote femminili si parla di posti da manager si parla di donne intelligenti affascinanti insomma sono sempre esistite le donne affascinanti che avevano anche una certa intelligenza e il fatto di ridurle per quell'apparire e non per l'essenza quello che comunque erano era veramente riduttivo quindi oggi io ho tantissime amiche conoscenti anche di donne che hanno veramente qualcosa nella testa e non solo esteriormente e quindi non mio amico napoletano dice tu si belle dentro quindi non uscire stai in casa in quel caso allora crista abbiamo ancora il tempo credo di fare qualcosa di più e che è un'altra cosa è che ti dà più piacere qualsiasi ora perché grazie alla mia vita vivo ogni ora della giornata diversamente e quindi non potrei dire a una certa ora sono più felice di un'altra ora già la mattina quando le mie bimbe mi svegliano e vado a prenderle e sorridono è bellissimo ma come quando anche preparo il pranzo e ci sediamo a tavola insomma qualsiasi ora della mia giornata è secondo me spettacolare è vero che fai il risotto c'è il risotto la rigozzi sì infatti nel libro ci sono le ricette inedite del mio risotto ma lo devi pubblicare in italiano anche questo libro no vabbè ma ci sono anche c'è una rubrica dedicata al Ticino con delle parole con dei capitoli in italiano tra l'altro anche delle parole in dialetto tipo dai una parola in dialetto che ti viene del selfissimo ma insomma ho tradotto delle parole come un vocabolario turistico abbiamo tantissimi svizzeri tedeschi che vengono in Ticino e che adorano i ticinesi e che vorrebbero parlare il dialetto allora io ho fatto una sorta di vocabolario come per dire buongiorno come stai dove mi trovo posso ordinare un bicchiere di merlot stasera andiamo a ballare scritto ovviamente con la traduzione in dialetto così che loro si portano il libro in Ticino e come a te stai un bicchiere di vino e hanno il traduttore quindi ti piace la cucina il risotto ma come fai a entrare nei calzoni dieci anni fa quando eri Miss Svizzera ma diciamo che sono più in forma adesso di dieci anni fa sicuramente da una parte genetica posso avere fortuna sicuramente dalla parte della mamma dall'altra parte ovviamente tengo quello che è l'aspetto fisico anche non è la cosa più importante ma ci tengo per essere anche in salute per sentirmi bene e quindi ho alimentazione sana quello che è non posso dire di essere una sportiva di fare sport perché sarei bugiardo e qui siamo veri al gioco del mondo io sono una pigra di natura ho fatto talmente tanto sport nella mia vita danza a dodici anni sulle punte che poi a un certo punto ho smesso e non ho più ricominciato ho preso il treno adesso tu devi fare uno perché così pigramente con un piccolo passo cadiamo sull'amore che è la casella e la pedina che hai scelto e adesso finiamo su un uno per chiudere questo gioco del mondo vediamolo ma sì ne abbiamo fatto il 6 che ci porterà verso la casella X la casella X lasciamola lì perché adesso il tempo è finito Crista noi ti ringraziamo non c'è due senza tre si dice è vero? è vero quindi ci rivediamo fra quattro anni nel 2021 perfetto fissata fissata così parliamo di altre cose parliamo di altre cose grazie di cuore grazie mille a te e grazie anche a voi per essere stati con noi ci rivediamo come sempre la settimana prossima buona serata grazie mille a te